Cominciamo il webinar visto che sono arrivati più o meno tutti gli iscritti. Innanzitutto ci presentiamo, siamo Luca Battistelli e Marco Cappellotto e ci occupiamo rispettivamente della parte supporto e della parte design. Buongiorno a tutti, grazie per essere qua presenti assieme a noi in questo martedì pomeriggio. Come annunciato anche da Luca, oggi vorremmo trattare quello che è la realizzazione di una boardroom. Che, permettimi, conclude un ciclo di tre webinar iniziati un mese o un mese e mezzo fa che sono iniziati con la door room passando attraverso una sala conferenza di media dimensione fino ad arrivare all'ultimo della trilogia che è appunto la boardroom. Questa è una serie di webinar che abbiamo organizzato in questo ultimo periodo dell'anno ma nel prossimo anno, quindi già a partire da gennaio, abbiamo in mente di fare altre cose per cui vi suggeriamo di tenere d'occhio il nostro sito perché ci saranno delle novità. Come pure qualsiasi persona di voi che non avesse partecipato ai precedenti webinar ci sono le registrazioni disponibili per cui le potete eventualmente guardare anche quando vi fa più comodo. Direttamente su YouTube. Ecco, partiamo su cos'è una boardroom. Per noi, noi pensiamo che una boardroom sia una grande sala conferenze o meglio, dove normalmente si ritrovano persone dirigenti o comunque un certo numero di persone sedute intorno a un tavolo, un tavolo che può essere più o meno grande e quello che balza ad occhio, ad esempio abbiamo preso questo come idea, una boardroom fatta, vedete già in parte alcune cose che poi andremo a spiegare, ma l'idea di questa sala è che è una sala mediamente grande dove ci sono in genere 15, 20 o più partecipanti disposti intorno a un tavolo più o meno grande e una delle prime necessità che serve in un ambiente di questo tipo è poter far sì che una persona dal lato opposto della sala senta quello che dice chi sta appunto lontano da essa. Questa è una delle prime cose che viene richieste, ma ovviamente oggigiorno in un contesto di multimedialità altri aspetti che vengono richiesti è il fatto di poter collegare la sala a un'altra sala remota tramite telefono e quindi via rete VoIP ed ancora poter connettere la stessa sala anche in videoconferenza rispetto a siti remoti. Dal punto di vista delle caratteristiche video, quello che abbiamo considerato, almeno noi, nell'esempio che esporremo fra poco, di considerare diversi punti di connessione video sopra il tavolo in questo esempio specifico potremmo mettere anche 3-4 punti tranquillamente distribuiti in modo tale di dare la possibilità di condividere il contenuto del proprio laptop e contestualmente dare la possibilità di fare la connessione con la sala remota in videoconferenza. Utilizzeremo in particolare un punto, diciamo, di ingresso ed uno di uscita proprio per sfruttare, nella nostra ipotesi, un codec per videoconferenza di terze parti. Ultimo aspetto, questa dell'esempio è una sala molto luminosa per cui è anche di discrete dimensioni, quindi è necessario avere un display con l'idonea luminosità e ovviamente anche dimensione. Iniziamo ad analizzare punto per punto le esigenze e quindi proviamo a dare una risposta a queste esigenze. Allora, nel momento in cui cominciamo a avere 15-20 partecipanti intorno a una sala, ecco che pensare ad un sistema con pochi microfoni risulta poco agibile anche perché chi è seduto all'altra parte della sala ovviamente ha difficoltà a avvicinarsi a pochi microfoni. Quindi la cosa ideale è poter distribuire un microfono ad ogni partecipante o nel caso dare un microfono a ogni due partecipanti. Il fatto che queste persone siano distribuite intorno a un tavolo fa sì che anche la distribuzione poi dell'amplificazione non sia così semplice da gestire. Diciamo che ci viene incontro quello che normalmente viene chiamato un conference system, quindi potremmo dire che queste prime tre punti, quattro punti del nostro aspetto audio può essere soperito da un sistema conference system il quale oltre a gestire n microfoni collegati uno dopo l'altro permette, grazie all'altoparlante interno, anche di far sentire quello che uno sta dicendo anche sulla base stessa. Questo ci aiuta in questo specifico contesto visto che essendo una sala piuttosto alta collocare gli diffusori a controsofitto in alto risultava pressoché difficile ma soprattutto poco efficienti visto anche la riverberazione della sala. L'altro aspetto che si voleva mettere in evidenza era che un conference system in un contesto del genere non è sufficiente, ma serve qualcosa per poi mettere in comunicazione questo sistema a una sala remota via VoIP e una sala con la videoconferenza. Ci viene in aiuto una delle ultime matrici create da Biamp, la tesira Forte VT4, la quale è una matrice proprio pensata per queste applicazioni, diciamo così, dove abbiamo quattro ingressi audio e quattro uscite audio, quindi un limitato numero di ingressi e di uscite, ma dispone già della connessione VoIP per poter parlare verso sistemi su telefono fondamentalmente. Aggiungo solo una nota, tutti gli ingressi hanno la cancellazione d'acqua acustica, ovviamente parlando di videoconferenza e in generale di teleconferenza questo è indispensabile. Ci sono a disposizione anche altre possibilità che nell'esempio che mostreremo non stiamo utilizzando, ma ad esempio c'è anche la possibilità di fare teleconferenza tramite soft codec usando la porta USB, però ne parleremo eventualmente in altre occasioni. dal punto di vista di quello che dicevamo prima, ovvero i punti video in ingresso e uscita, abbiamo pensato di predisporre quattro ingressi ECDMI sul tavolo, un ingresso ECDMI da dedicare alla videoconferenza e un ultimo ingresso ECDMI da dedicare alla telecamera. In termini di uscite video ci sarà un'uscita principale per il display di sala che vedremo potrà essere un sistema idoneo a questo contesto come un LED wall e un'uscita ECDMI dedicata alla videoconferenza. Ecco, qua balza all'occhio che in questa configurazione il numero di ingressi e uscite è un po' sbilanciato, giusto Luca? Quindi esistono matrici video dove abbiamo un certo numero di ingressi e poche uscite, ma tendenzialmente le matrici video di solito sono 4x4, 8x8 o 16x16, tendenzialmente hanno sempre un numero di ingressi e uscite uguali. In questo caso vediamo che le uscite sono molto poche, gli ingressi sono di più e potrebbe o tendenzialmente il numero di ingressi in questo contesto potrebbe ulteriormente salire, visto che di solito viene sempre richiesto di poter aggiungere altri dispositivi di ingresso. Quindi noi abbiamo pensato a un sistema che sia completamente scalabile, quindi su rete, utilizzando l'ultimo entrato nella famiglia di Tesira, di Biamp, che si chiama Tesira Lux, che sono sostanzialmente una copia di dispositivi, un encoder o un decoder che gestiscono, possono gestire rispettivamente ingressi e uscite, però dando la libertà appunto di creare una matrice virtuale che non ha da un lato limiti in termini di, se non quelli determinati dalla rete, dalla capacità del sistema, in termini di ingressi e uscite, ma soprattutto la possibilità di avere delle matrici virtuali che sono, come dire, sbilanciate con numeri di ingressi e uscite diversi. L'altro aspetto su cui facciamo una nota prima di poi di entrare un po' più nel vivo del webinar, la soluzione, che dicevamo, per una sala di questo tipo, di una certa dimensione, noi abbiamo pensato all'utilizzo di un LED wall, che ci garantisce innanzitutto, al di là della luminosità, un elevatissimo contrasto, come il modello Absent Icon C138, che è un LED wall, come dire, all in one, già quindi in qualche modo acquistabile, con una misura definita, quello che abbiamo pensato in questo contesto è il C138, ovvero il modello da 138 pollici, che ha quindi una base poco più di 3 metri, che risulta assolutamente confacente alle nostre esigenze. Ecco, l'alternativa a questo monitor, cosa potrebbe esserci, Luca? O uno schermo, probabilmente, normale, dove si può arrivare a 8 pollici, più o meno? Esatto, ci avviciniamo ai 100 pollici, difficilmente andiamo oltre, se non usando più monitor, quindi creare un video wall, oppure, ovviamente, c'è la videoproiezione. In questo contesto particolare, anche visto il prestigio e la caratteristica della sala, probabilmente, la luce, la forte presenza di luce nell'ambiente, la scelta di un LED wall, probabilmente la scelta ideale, è sicuramente quella che potrebbe raggiungere il miglior risultato, almeno se paragonato a una proiezione in un ambiente così luminoso. Sì, anche perché dobbiamo sempre ricordare che il nero su un telo di proiezione è il bianco, ma tendenzialmente, se l'ambiente è luminoso, quel bianco non è nero, ma bensì è una luce che è una via di mezzo, quindi serve molta luce per ottenere un contrasto decente, ma che non è sempre facile da ottenere. da ottenere. Bene, abbiamo così, in poche parole, come dire, scelto, scelti gli elementi del nostro sistema, assumicati, adesso proviamo ad andarli, diciamo così, a combinare assieme tra loro. In particolare quelli, diciamo, centrali, quelli che richiedono anche una programmazione, una configurazione. Allora, partiamo da quello che dovrebbe essere la prima parte del sistema, quindi un sistema, diciamo così, conference system, costituito da un certo numero di basi, collegate tra di esse, tramite un cavo che è in categoria 6 schermato, che ci dà la possibilità, appunto, di gestire audio e anche diffusione, rinforza della voce direttamente di fronte alla persona, con lo stesso sistema. Qua, in figura, abbiamo rappresentato un conference system semplice, quindi solo per la parola, ma ci possono essere anche conference system che dispongono della parte di votazione, votazione a pulsanti o touchscreen e quindi, in un contesto di CDA, potrebbe essere necessario anche per o per la gestione, appunto, delle votazioni interne della sala e quindi agevolare anche questo tipo di funzionalità. Già che ci sei, anche se molti l'hanno già riconosciuto dall'immagine, possiamo dare un nome a questo conference system? Sì, questo è il nuovo sistema della Shure, l'MXC, dove abbiamo un'unità centrale CCU che gestisce fino a migliaia di basi, diciamo potenzialmente, ovviamente con l'aggiunta di alimentatori supplementari e nel caso specifico abbiamo delle basi MXC620. Continuando, andiamo a posizionare o collegare la nostra tesira Forte VT4, la quale, diciamo così, il conference system ci dà un'uscita audio e noi l'andiamo a collegare ad una di queste uscite, a uno di questi ingressi. Tuttavia, se ricordate l'immagine di iniziale di questa sala, la sala era come suddivisa in quattro grandi fette, diciamo così, o quattro porzioni. Allora abbiamo ben pensato di, visto che abbiamo a disposizione sia le uscite sull'unità centrale sia gli ingressi sulla tesira Forte, di collegare tutte le quattro uscite e quattro ingressi. Questo ci permetterà in un secondo momento di fare una particolare gestione dei gruppi di microfoni che poi approfondiremo. Ovviamente quello che viene recepito tramite VoIP o videoconferenza noi lo potremmo anche andare ad inviare ulteriormente sugli altoparlanti delle basi microfoniche, quindi andarlo a distribuire in modo uniforme in tutta la sala. questo per quanto riguarda la prima parte della parte diciamo così audio. Poi avremo la connessione ovviamente la connessione Voice over IP che richiede la presenza di un PBX VoIP secondo lo standard SIP e che è la parte che permette appunto di fare teleconferenza modalità solo vocale. Questa parte di schema l'abbiamo completato adesso andiamo a collegarci quello che potrebbe essere un amplificatore di potenza per mandare diciamo così a due diffusori frontali lato schermo tutte quelle che sono i contributi eventualmente di eventuali video contributi video che ne so una presentazione multimediale un video o qualcosa che richieda anche una prestazione audio un pochino più performante come pure potremmo mandare oltre che inviarlo negli attoparlanti anche quello che è l'audio che arriva dal sito remoto per dare una sorta di direzionalità avere coerente assieme sia la parte visiva sia la parte audio e che quindi partono dallo stesso punto della sala. Quindi dalla direzione dove è stato installato l'icon che abbiamo visto prima. Continuando andiamo a collegare alla nostra tesira finalmente uno switch di rete giusto? Certamente tra l'altro questo è uno switch che dobbiamo prevedere compatibile con la famiglia dei protocolli AVB audio video bridging perché è il protocollo diciamo nativo scelto da BIAMP per la sua distribuzione audio ad eventuali espansioni ma in questo caso anche video con il sistema LUX che sarà il successivo elemento da prevedere nel sistema anzi i successivi elementi da installare nel sistema rispettivamente encoder e decoder. andiamo quindi a collocare abbiamo pensato di collocare come abbiamo detto quattro dispositivi di ingresso sul tavolo distribuiti nel tavolo collegati ovviamente tramite un qualsiasi cavo di rete allo switch principale si chiamano IDH1 sarebbe possibile anche una connessione a 10 giga ma la qualità della compressione MJPEG implementata by amp è considerata visually lossless quindi di ottima qualità e permette di lavorare anche con dei link standard da 1 gigabit premesso ovviamente che sia implementato il protocollo IVP. A questi andiamo poi ad aggiungere un dispositivo che riceve la videoconferenza e un dispositivo a cui invece viene collegato una telecamera per le riprese in sala anch'essi collegati agli ingressi IDH1 di tesi la lux ricordo tra l'altro che questi dispositivi permettono di collegare sia un ingresso di tipo HDMI sia un ingresso display port e quindi avere un doppio formato di connessione e tutti questi dispositivi dispongono anche di una porta seriale e quindi risulta comodo dallo stesso dispositivo che verrà posizionato nei pressi della telecamera collegare direttamente la porta seriale e quindi ci permette già di gestire una serie di puntamenti della telecamera che come vi dicevo prima noi li andiamo direttamente a gestire grazie alle quattro uscite presenti nella nostra CCU cioè andremo ad associare un gruppo di microfono all'uscita 1 un altro gruppo all'uscita 2 e così via e quindi la telecamera tramite il sistema tesila verrà puntata in funzione di quale ingresso sente la telecamera scusate la matrice tesila in ingresso quindi quale gruppo il microfono è attivo in quel momento creando un sistema di puntamento automatico senza aggiungere un sistema di controllo esterno continuiamo andiamo a posizionare i due dispositivi di uscita finalmente uno verso la videoconferenza e uno verso il nostro ledwall di sala in questo caso parliamo del dispositivo chiamato OH1 dispositivo di uscita che ha l'uscita solo di tipo ecdmi anche questi dispositivi comunque hanno a bordo porta seriale possibilità avere link a 10 giga 4 contatti come tutte le macchine server del mondo tesira compresa tesira forte e quindi in realtà danno o darebbero molte opzioni di integrazione ulteriori noi cercheremo però di difficoltarci su quello che abbiamo descritto fino a questo momento senza senza mettere troppa carne al fuoco visto che il sistema nella sua semplicità comunque comincia a diventare già abbastanza articolato ecco lo schema del sistema è più o meno fatto finito certo e noi l'abbiamo riproposto qua sopra il nostro tavolo versione ridotta perché non potevamo usare tutti questi encoder ma insomma ne abbiamo previsti abbiamo previsto fondamentalmente uno che ci rappresenta il tavolo uno di questi quattro uno che ci rappresenta l'ingresso della videoconferenza uno per la telecamera e i due che vanno verso le due uscite della nostra utenza appunto videoconferenza e ledwall il ledwall l'abbiamo rappresentato da un semplice piccolo monitor proprio per potervi mostrare tutto con una telecamera mentre per quanto riguarda il conference system abbiamo collegato quattro basi diverse tra loro proprio per farvele anche vedere così nella loro diversità che ci rappresentano fondamentalmente i quattro macrogruppi o settori della nostra della nostra sala conferma boardroom perdonateci non abbiamo connesso amplificatore altoparlanti senza nulla togliere sono la parte in questo momento meno complessa e quindi abbiamo evitato insomma di installarla per non complicarci la vita sì ecco questa non mi riusci a far vedere allora credo che abbiate accesso voi anzi abbiate visibilità sulla telecamera di conseguenza la potete anche eventualmente ridimensionale se volete zoomare utilizzando insomma la finestra che sta splittando a metà lo schermo tra presentazione e telecamera la telecamera sarà fissa ma in qualche modo noi adesso vi faremo capire e vedere quello che succede in tempo reale man mano che configureremo il sistema quindi adesso quello che faremo è andare a configurare via via gli apparati e quindi inizieremo dal sistema di conferenza e quindi poi il sistema tegira nella sua parte audio e quindi il sistema tegira nella sua parte video per farlo ovviamente usciamo un momentino dalla dalla presentazione e andiamo direttamente a vedere di connettersi al sistema conference system sistema conference system noi abbiamo una serie di microfoni quindi quelle che sono le impostazioni fondamentali o principali del nostro sistema quello che a noi ci interessa andare a configurare in questo caso è mettere ognuno dei microfoni o meglio qua ne potremmo avere n collegati ma fondamentalmente ognuno collegato e che dà una propria uscita a un gruppo diverso come potete notare Marco lo ha dato un po' per scontato sta utilizzando un semplice browser quindi conoscendo l'IP di default che in questo caso poi è stato modificato a nostro piacimento è sufficiente un browser standard per poter cominciare a configurare il sistema quindi io quello che sto facendo è andare a confluire i nostri microfoni nella fattispecie 4 uno per ognuna delle quattro uscite che poi sono collegate agli ingressi della nostra tesira forte quindi il microfono uno al primo gruppo disponibile che era il gruppo B poi il gruppo C gruppo D e gruppo E che sono rispettivamente quattro uscite dietro alla matrice fatto questo diciamo che per la parte di gestione del nostro conference system siamo fondamentalmente già pronti il conference system è uno strumento che si connette e si gestisce in modo facile basta connettere le basi una dopo l'altra e in desi change tutto funziona di solito al primo colpo senza grossi problemi quello che va fatto eventualmente è una regolazione ovviamente dei volumi dell'altoparlante e eventualmente dei delle come dire degli ingressi e delle impostazioni di di quante persone parlano contemporaneamente a questo poi noi andiamo anche a connettere l'uscita della nostra tesira e questa la facciamo rientrare su quello che è l'ingresso numero 1 nel nostro caso ingresso numero 1 che rimandiamo ulteriormente all'altoparlante al canale 0 che eventualmente sarebbe il canale ascoltato per la traduzione simultanea in questo caso non ce l'abbiamo e al gruppo A che è quello che poi verrà inviato ad un'eventuale registrazione che è una uscita dedicata che come avete notato prima non è stata utilizzata perché siamo partiti da B bene detto questo diciamo che la parte conference system è più o meno a posto pronta per funzionare quindi a differenza di quello che si crede di solito il sistema DIS di SURE tutto sommato almeno questa configurazione non è così complessa è molto molto semplice è molto intuitivo da comprendere ci spostiamo ora in quella che è la parte di tesira tesira cosa abbiamo fatto abbiamo caricato quella che è la configurazione che voi trovate direttamente dentro le apparecchiature quando la sballate la portate la coistate la portate a casa e a questa configurazione che vedete già online ce l'abbiamo qua pronta che sta funzionando abbiamo fatto altro che collegare i dispositivi creare una seconda partizione video e andare a collegare quelli che sono i dispositivi video che nella faccia specie abbiamo individuato come l'uscita video l'uscita alla videoconferenza l'ingresso quindi l'HD IDH1 collegato alla telecamera quello collegato alla videoconferenza che in questo caso non è collegato e uno dei quattro che sarebbero quelli destinati al tavolo curatore in questo caso quindi già intuitivo capire che ognuno dei blocchi che vedete rappresentati in rosa corrisponde effettivamente a un'unità fisica sulla sinistra gli encoder sulla destra gli decoder e quindi proprio in un rapporto uno a uno al centro però abbiamo aggiunto anche quello che si chiama audio video router potremmo chiamarla la matrice video in versione software in questo caso è una 3x2 3 ingressi 2 uscite a definitivo ovviamente avremmo dovuto avere ulteriori 3 ingressi quindi sarebbe diventata una 6x2 ecco qua adesso andiamo a fare una semplice commutazione e se qualcuno di voi alla telecamera attiva e lo vedete nel proprio schermo dovrebbe vedere che sul nostro display stiamo ora trasmettendo facendo vedere quello che è la ripresa video della telecamera che è iniettata tramite un cavo HDMI dentro l'ingresso numero 3 quindi della telecamera del ihd1 dedicato alla telecamera ovviamente questa parte di controllo tendenzialmente noi l'abbiamo fatta da questa interfaccia software che è la stessa che usiamo per la programmazione ma potrebbe essere anche tranquillamente controllata da un sistema di controllo di terze parti noi potremmo suggerire Atlona Velocity però insomma non è argomento diciamo del webinar di oggi diciamo che grazie a tutte le funzionalità di tesera possiamo creare un piccolo sistema di automazione anche in questo caso della telecamera grazie alla porta seriale che sta dentro appunto al dispositivo il questo dispositivo che connette diciamo così la telecamera ha una sua porta seriale che l'abbiamo collegata alla telecamera noi adesso direttamente dal dal layout tesera che è a tutti gli effetti online ci scolleghiamo momentaneamente e cominciamo a personalizzarlo e a crearlo come piacerebbe a noi per tutte queste ottimizzazioni che dicevo prima per comodità abbiamo già preparato qua un modulo con le stringhe seriali in quanto in quanto abbiamo preferito scriverle già noi a mano in quanto serviva scrivere questi comandi e quindi per non perdere troppo tempo durante il webinar li abbiamo già preparati noi ovviamente leggendo la documentazione della telecamera AREC che stiamo utilizzando in questo momento quindi semplice stringhe seriali l'unica nota interessante a parte un cablaggio con un cavo incrociato dell'RS232 con il cavo in dotazione più un cavo per fare l'incrocio è che essendo le stringhe di caratteri esadecimali è necessario utilizzare quel carattere speciale che nel mondo tesera è il tilde che intravedete in questo serial command string detto questo come possiamo operare semplicemente possiamo togliamo questo che appunto rappresenta quello che è lo standard allora noi abbiamo che per ognuno di questi ingressi corrisponde una porzione della sala ora qua possiamo mettere un dispositivo che quando sente uno di questi ingressi attivi ci dia una stringa di comando i dispositivi che fanno queste sono fondamentalmente due nella famiglia tesera o andiamo a mettere un automixer in questo caso da quattro canali con quattro uscite e questa è una possibilità tuttavia a noi non interessa miscelare perché tra l'altro questo gain sharing mixer lo possiamo anche togliere e andare diretti perché tanto è direttamente chi preme il tasto del microfono che abilita il suo microfono quindi non abbiamo la necessità di gestire un'automazione dei microfoni ci interessa più che altro sapere quali di questi è attivo in ogni momento esattamente questo è uno dei metodi ma un altro metodo è mettere un signal meter present meter con le uscite logiche in questo caso da quattro canali questo è un dispositivo che fa altro che diciamo così è un led che si accende quando arriva un certo segnale e noi potremo mettere un segnale molto basso in modo tale che si attiva anche col fuscio dell'attivazione una volta che il microfono sarà aperto sarà sufficiente anche un po' di rumore di fondo per dare la segnalazione di microfono aperto sostanzialmente e con questo potremmo anche andare a gestire come dire dei tempi di attacco e di rilascio cioè nel senso quando diventare off e on e quindi dare un minimo di delay tra questo stato e dopo quello che sarà la stringa verso l'uscita grazie appunto a delle logiche che questo dispositivo ha verso l'uscita questo meccanismo che si chiama antirimbalzo letteralmente risulta molto utile nella gestione delle telecamere per evitare che le telecamere repentinamente puntino passino da un preset all'altro quando magari una persona solo temporaneamente smette di parlare o in questo caso chiude il proprio microfono ma ha intenzione di riaprirlo subito dopo quindi è una sorta appunto di di steresi che ci evita di richiamare inutilmente i preset delle telecamere ecco detto questo a questo punto il dating mix lo possiamo cancellare perché preferiamo usare il signal meter present meter andiamo a collegare a questo ovviamente gli ingressi audio che arrivano e sono stati collegati i primi quattro ingressi e questo ha queste quattro uscite che quando si abilita come dire il meter abilita diventa uno e di conseguenza va a richiamare il preset corrispondente corrispondente qua poi abbiamo fatto un quinto preset che abbiamo chiamato preset largo o comunque un preset a campo largo e quindi grazie a una logica in questo caso banale dove quando nessuna di questi preset è attivo quindi è una logica di tipo NOR abilita quindi un quinto preset che è un preset di campo largo quindi vedete come con sostanzialmente una sola porta logica e la connessione diretta al comando string noi stiamo creando verificheremo se funziona stiamo creando un'automazione per il richiamo di preset utilizzando una semplicissima logica per analizzare poi cosa sta succedendo mettiamo anche dei diciamo così dei logic meter ok che ci permettono di andare a vedere direttamente quando si attiva una logica piuttosto che l'altra ce lo andiamo a posizionare qua così non tale che questo corrisponde ai quattro preset più il quinto che è il campo largo questa è una modifica che riguarda la parte di controllo adesso dobbiamo pensare invece alla modifica di questo layout per l'interazione vedete che la parte VoIP in matrice è già presente la parte microfonica è già presente le uscite che abbiamo nominato rispettivamente la prima conference ovvero è l'uscita che viene collegata all'ingresso del sistema conference di Shure i due canali successivi sono rispettivamente left right che vanno al sistema di amplificazione e le due colonne la quarta uscita invece l'abbiamo lasciata nominata out 4 perché non è utilizzata nel nostro esempio e le uscite per il VoIP e per il riferimento del cancellatore ed ecco sono già predisposte noi dovremmo andare ad aggiungere a questa matrice almeno un ingresso monofonico quindi effettivamente un ingresso in più e un'uscita in più per il sistema di videoconference allora possiamo prendere questa matrice e semplicemente aggiungere e modificarla quindi selezionando il blocco tasto destro andiamo a editare il blocco i parametri di questo blocco e aumenteremo porteremo a 7 il numero di ingresso e a 8 il numero delle uscite quindi una e una queste uscite compaiono qua vedete ma per comodità andiamo a spostarle un pochino più sotto tramite l'edit port property quindi le andiamo a spostare di facciamo 6 e 4 e 4 e questa la chiamiamo diciamo così video video in videoconference va bene così? sì sì va bene così qui siccome questo secondo campo che è l'over tip cioè quello che appare quando si va sopra sopra la linea o sopra il pin della matrice potremo anche ridurlo a vc in modo tale che poi sia ben visibile invece all'interno della matrice altrimenti i caratteri non sono completamente visibili lo stesso videoconference out e rispettivamente vc out qua possiamo fare apply o dare direttamente all'ok e vedete che si nominano anche le etichette se Marco apre la matrice vediamo che le etichette del canale d'ingresso di uscita che abbiamo aggiunto sono anche riportate grazie a quella terza colonna che abbiamo visto prima all'interno della matrice ci rende la matrice molto più leggibile bene adesso come andiamo a collegare questa partizione con la partizione video Luca? facci vedere tu allora torniamo nella partizione video una nota che prima non abbiamo enfatizzato è che questa è una partizione creata in versione da 1 gigabit perché come vi abbiamo detto usiamo delle connessioni standard da 1 gigabit abbiamo inserito usando la toolbar qua in alto rispettivamente gli encoder i decoder e quella che abbiamo chiamato matrice virtuale che è l'audio video router quello che non abbiamo predisposto è come dire il fatto di prelevare il segnale audio dal sistema di videoconferenza di terze parti per farlo e per trasmetterlo alla partizione audio per fare tutte le elaborazioni che vogliamo e in particolare per farlo arrivare alla matrice che abbiamo appena modificato andiamo nel menu speciality blocks partition connector qui esistono l'audio video tx l'audio video rx che fra poco capiremo di cosa si trappa allora per fare questo selezioniamo semplicemente uno stream perché è un canale un singolo canale che portiamo dall'altra parte per prelevare l'audio noi diremmo con i sistemi classici di embeddare l'audio semplicemente tiriamo una linea così da quella che si chiama uscita audio video del blocco videoconferenza con questa semplice linea noi non abbiamo fatto altro che come dire embeddare l'audio per mandarlo alla partizione trasmetterlo alla partizione audio andiamo quindi nella partizione audio qui dovremo mettere sempre dal menu speciality blocks un partition connector che ci permette di ricevere dalla partizione video quindi video video to audio rx quel canale monofonico facciamo subito un doppio clic sopra vediamo sulla colonna di destra tutti i trasmettitori disponibili ce n'è uno solo è quello della partizione video stream 1 facciamo un doppio clic e così abbiamo effettuato la connessione con quel trasmettitore fatto questo possiamo selezionare un blocco ipass è parametrico e con il control d vi replichiamo così facciamo la stessa elaborazione possiamo quindi fare la connessione di questi due blocchi aggiungiamo al volo anche per questo canale in più un controllo di livello sposto tutto leggermente a sinistra per farmi spazio e posso andare all'ingresso della matrice aggiungo per comodità come è stato fatto anche per altri canali un audio meter versione picco per monitorare la presenza di segnale quando saremo online per quanto riguarda l'uscita aggiungiamo semplicemente anche qui eventualmente un controllo di livello e poi un oggetto partition connector audio to video tx quindi trasmettitore da partizione audio a partizione video sempre monofonico e se necessario anzi di solito necessario anche qui un bel meter per effettuare il monitoraggio del livello di segnale questa modifica ci permette di completare la partizione audio torniamo sulla partizione video dobbiamo solo rimandare tramite lcdmi questo segnale audio come facciamo a riceverlo e a embeddarlo nuovamente nel segnale video usiamo intanto il partition connector ricevitore doppio clic sopra vediamo lo stream della partizione audio qui sulla destra doppio clic e lo abbiamo connesso e a questo punto non so se Marco vuole aggiungere una nota aggiungiamo un oggetto particolare che si chiama audio video combiner lo scopo dell'audio video combiner è appunto quello di fare l'operazione inversa quella che abbiamo fatto prima estraendo semplicemente collegando questa linea l'audio dall'encoder video faccio la connessione dell'audio che mi arriva dall'altra partizione scollego semplicemente questa linea che mi arrivava dal router la faccio passare attraverso il combiner e a questo punto sposto leggermente il blocco faccio la connessione vedete con questa operazione stiamo facendo quello che nella stragrande maggioranza dei casi facciamo utilizzando dell'hardware esterno come degli embedder o dei embedder riordiniamo un po' per precisione cosa vuol dire Luca che adesso abbiamo iniettato dentro questo segnale l'audio che arriva dai nostri microfoni comunque dalla nostra matrice che sta nell'altra partizione certamente abbiamo elaborato e come dire mixato tra di loro i canali qualora fosse necessario in questo caso anche il sistema conference ci dava un solo canale però avremmo potuto farlo per poi embeddarlo nelle cdmi e mandarlo direttamente al sistema di videoconferenza questo significa che noi in questo caso non ne abbiamo bisogno ma se il display fosse dotato di speaker integrati avremmo potuto fare la stessa operazione per l'altra uscita video che si chiama audio video display nella parte in alto a destra per appunto mandare un segnale audio dei microfoni dentro il segnale cdmi cosa abbastanza interessante e utile quindi normalmente Luca in queste lineette che noi vediamo qua bianche molto banali cioè queste lineette rappresentano sia l'audio sia il video della connessione esattamente è il video precisamente con il proprio audio proprio audio proprio audio che di solito magari è qualcosa che originariamente rappresenta la sorgente ma che con tesira in realtà possiamo con questo meccanismo andare a modificare o a integrare ripeto con altri segnali audio provenienti dal nostro processore tesira forte quindi questo audio video combiner toglie o meglio toglie questo collegamento del video scusate della parte audio relativa a questo collegamento video lo taglia come e lo sostituisce e lo sostituisce con quest'altro video che arriva dalla matrice è corretto corretto esattamente operazione assolutamente intelligente che ci dà grandi possibilità di integrazione audio video questo fa notare come tesira forte e tesira lux rappresentano forse una delle uniche soluzioni al mondo che sono in grado di gestire in questo modo da un'unica piattaforma software sia l'audio che il video evitando quindi di fare le operazioni classiche che l'integratore di sistemi è abituato a fare anche di allineamento tra l'audio il video perché i sistemi sono assolutamente due sistemi separati Luca scusami invece queste due linee che noi troviamo qua L1 e L2 cosa rappresentano in questi blocchi di ingresso e di uscita di questi blocchi tesira lux allora sia in ingresso che in uscita ci sono questi due canali che sono fisicamente connessi corrispondono agli ingressi fisici che sono rispettivamente presenti negli encoder e alle uscite fisiche che sono presenti nei decoder e il fatto che siano qui separati rappresentati separati da quello che è il flusso audio video ci fa capire che di fatto quegli ingressi e quegli usciti sono assolutamente indipendenti quindi noi potremmo collegare ad un ingresso di un encoder un microfono e attivarci anche la phantom power o usare l'uscita di un decoder o le due uscite di un decoder per andare allo speaker o all'amplificatore prima che agli speaker perché magari il decoder in prossimità è più comodo rispetto all'utilizzo delle uscite del processore ad esempio potremmo prendo io il mouse un momento a Luca collegare questa uscita direttamente a questo dispositivo in questo modo certo quindi prendiamo il flusso che arriva dalla matrice che viene embeddato tramite questo combiner lo mandiamo anche ulteriormente alle due uscite di linea presenti nel dispositivo esatto quindi le possiamo mandare in amplificazione quindi assoluta flessibilità e indipendenza anche di questi ulteriori canali audio che sono se vogliamo come un expander e xing o xout da due canali integrato negli encoder e decoder video bene direi che forse abbiamo fatto tutte le modifiche dal nostro layout torniamo un momentino nella partizione audio per riassumere quindi abbiamo inserito questo signal meter che ci andrà a dare delle uscite logiche che richiamano i primi quattro stringhe di comando che corrispondono a quattro preset della telecamera più un quinto preset che è il campo largo questo serial command string come vedete da questo numerino che compare qua è sulla macchina numero 3 la macchina numero 3 che non la troviamo nella parte audio ma bensì la troviamo qua nella parte video che corrisponde all'encoder che gestisce la telecamera quindi direttamente dietro questo encoder preleviamo l'uscita seriale e l'andiamo a collegare alla sua telecamera noi potremmo modificare questo numerino a piacere e metterlo anche su altre eventualmente dispositivi questo è una cosa estremamente flessibile e comodo da fare se non c'è altro proviamo a compilare la partizione o meglio tutte le partizioni tutte le partizioni perché abbiamo modificato tutte le partizioni il compilatore adesso ha fatto tutto quello che serviva a fare delle modifiche ha segnato a tutti i blocchi un suo numerino e a questo punto noi dovremmo essere pronti per poter scaricare questa configurazione dentro alla nostra macchina quindi andiamo a fare un send configuration ci chiede di dare il nome il nome a noi sta bene e ci chiede di andare ad upgradare sia la partizione audio sia la partizione video questo vi fa notare una feature veramente interessante di Desira che sono appunto le partizioni in questo caso sono partizioni video e audio quindi con una caratteristica con caratteristiche assolutamente diverse ma si possono creare più partizioni audio e più partizioni video e il fatto che abbiano come dire una configurazione indipendente significherà che in futuro nel fare la manutenzione di una sola di queste partizioni e riconfigurando una sola di queste partizioni si lasceranno inalterate e operative senza interruzione dell'audio tutte le altre che invece non vengono modificate questo è un altro punto di forza interessante di Desira proviamo a mandare l'update ecco questa che può sembrare un'operazione banale in realtà è un'operazione che va a sconfigurare e riconfigurare tutte le apparati rispetto a questo layout che noi abbiamo modificato e adattato alle nostre esigenze come un vestito su misura fondamentalmente a questo punto ci chiede di avviare l'audio su tutte le partizioni potremmo farlo anche singolarmente lo facciamo su tutte e il sistema è stato configurato in tempo reale ora lui sta ripartendo sta sincronizzando tutti i dispositivi noi chiudiamo questa finestra dobbiamo sicuramente attendere ancora alcuni secondi perché come diceva Marco tutto il sistema è stato riconfigurato DSP encoder e decoder e in più ovviamente i flussi gli stream audio video su EVB devono essere ripristinati sullo switch quindi è un'operazione che può richiedere anche quasi un minuto insomma attendiamo solamente a seconda di quante macchine sono presenti nella sala nel nostro sistema allora la parte audio vediamo che è già ripartita perché i view meter se vedete si stanno muovendo anche di poco ma si stanno muovendo andiamo ci spostiamo nella parte video e anche la parte video sta piano piano andando in onda in quanto vedete che anche i nostri puntini verdi cominciano a comparire vediamo se le macchine cominciano a farci vedere qualcosa io direi nel frattempo no se non si vede la telecamera display è difficile di mostrarlo attendiamo solo questo momento critico un attimo di panico possiamo provare a riscaricare la configurazione così per sicurezza a verificare se abbiamo fatto un cavo lo riconnetto per sicurezza ricompilo questa partizione ovviamente quando si fanno queste cose in diretta c'è sempre il rischio che qualcosa si incepi però la cosa fondamentale è comunque aver visto gli step di modifica e configurazione del layout e per disposizione vediamo se riusciamo a mettere in funzione tutto altrimenti dobbiamo fare una verifica puntuale se nel parlare abbiamo commesso qualche errore possiamo comunque se la partizione audio è messa in funzione possiamo eventualmente provare i preset della telecamera voi siccome la telecamera viene ripresa direttamente dalla dall'altra telecamera che stiamo usando per la teleconferenza dovreste poter notare il puntamento in funzione dell'apertura dei microfoni io direi che per evitare di perdere tempo in troubleshooting aspettiamo solo che la partizione audio sia attiva e poi io mi alzo per andare a premere e aprire i microfoni e vedere se è possibile modificare i preset sta ancora ecco la parte audio anche la parte audio è finalmente sincronizzata allora quello che possiamo fare adesso fondamentalmente stiamo vedendo il preset campo largo adesso Luca ha premuto il secondo microfono e vedete che si è attivato questo e che automaticamente dovrebbe aver richiamato un preset sulla telecamera vediamo se spento questo ha richiamato il preset largo siamo andati sul microfono numero 3 vediamo se nel frattempo riusciamo a far ripartire la parte video forse si tratta di staccare e riattaccare la telecamera e l'HDMI direi che comunque va di là l'effetto finale le istruzioni che abbiamo dato sono abbastanza completa a parte questa gaffe finale che come al solito si dimostra sempre in diretta ma ripeto la parte fondamentale è aver dimostrato com'è possibile programmare questo sistema nel frattempo mentre Marco magari dà un'occhiata a quello che succede vi chiederei se avete delle domande potete scriverle in chat ma in tempo reale possiamo darvi delle risposte ok non vedo domande vediamo se c'è qualche nota nelle chat no sembra di no se avete delle domande insomma sul sistema che abbiamo messo in funzione fino a questo momento abbiamo ancora qualche minuto e possiamo rispondere in tempo reale se invece preferite ragionare su quanto avete visto e fare la domanda in futuro sappiate che noi siamo a disposizione la maggioranza di voi conosce anche i nostri indirizzi email quindi potrà farlo tranquillamente via email va bene non importa abbiamo avuto la come dire il coraggio di fare la configurazione in diretta e come spesso succede quando si vuole fare qualcosa in diretta i problemi si presentano con quasi matematica certezza non vedo domande non so se Marco vuole aggiungere qualcos'altro no volevo far vedere questa commutazione come funziona il volo ma magari la facciamo banalmente semplicemente un'informazione nel sistema così riusciamo a prevedere anche quella che è quella informazione che abbiamo insuignato ok ora semplicemente come diceva prima Luca mi sposto dai microfoni e andiamo a richiamare quello che è la parte di microfono forse abbiamo staccato la porta seriale è collegata alla porta seriale collegata ma se in questo momento l'encoder non ha preso correttamente la configurazione probabilmente non funziona anche l'invio della stringa seriale non ci resta altro che dirvi che dovete fidarvi di noi che fino a 5 minuti prima della presentazione abbiamo collegato il sistema ma evidentemente fare dei tentativi uno dopo l'altro per poter fare una demo il più possibile esplicativa in questo caso è stato controproducente direi che se non ci sono domande a questo punto siamo a qualche minuto oltre il tempo a disposizione e se Marco è d'accordo ci salutiamo e ci sentiamo con il nuovo anno per il prossimo webinar che pianificheremo direi che sono d'accordo visto che non vedo altre domande e ringrazio tutti per la vostra partecipazione numerosa è bello vedere soprattutto che le persone rimangono fino alla fine vi ricordo che come detto all'inizio ci sono in programma turnata una serie di webinar e di corsi che oramai siamo sotto vicino a Natale quindi verranno fatti solo diciamo così a inizio anno nuovo e quindi vi suggerisco di andarli a vedere sul nostro sito ancora vi ricordo per chi non le avesse viste le precedenti puntate dei di